Ciao a tutti. Benvenuti su questo entusiasmante aggiornamento riguardante Belen Rodriguez. Oggi vi porteremo nel mondo dell'eleganza e del lusso. Poiché Belen ha fatto una scelta sorprendente per la sua famiglia e la sua vita. Siete pronti? Allora. Iniziamo. Belen cambia casa. Il suo nuovo attico di lusso a Milano. L'amatissima showgirl argentina ha deciso di acquistare un nuovo attico a Milano. E. Cosa ancora più sorprendente? Ha deciso di condividerlo con voi attraverso i suoi social. E credetemi. Questo non è solo un cambio di casa. Ma un tuffo in un mondo di lusso che lascerà tutti a bocca aperta. Belen. Il suo fidanzato Elio Lorenzoni. La madre Veronica Cozzani e la sorella Cecilia hanno visitato insieme la nuova abitazione. Questo attico lussuoso è semplicemente incredibile. Con un'enorme terrazza e una veranda in vetro che offre una vista mozzafiato sulla città di Milano. La domanda che tutti si stanno ponendo è. Cosa ha spinto Belen a fare questo cambiamento? L'amore è nell'aria alcuni potrebbero sospettare che questa scelta sia legata al passato. Forse per creare nuovi ricordi con la sua nuova fiamma. Elio Lorenzoni. E lasciarsi alle spalle i ricordi legati alla sua storia passata con Stefano De Martino. Belen sembra finalmente felice al fianco di Elio. E le loro interazioni sui social dimostrano un affetto sincero. E così. Belen ha compiuto questo sorprendente cambiamento nella sua vita. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa emozionante nuova fase della sua storia. E non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie più recenti su Belen Rodriguez e le altre celebrità. A presto!